Allora, buonasera a tutti, benvenuti ai nostri Mercoledì Scienza. Continuiamo con questo bel ciclo dei linguaggi della scienza, un mare di sorprese, che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Università di Genova e col Festival della Scienza e grazie ovviamente a Cost Entertainment Aquaria di Genova. Oggi è la volta di Silvano Fuso, che ci parla di storie di premi Nobel e di solenni cantonate. Per la presentazione di Silvano Fuso lascio la parola a Marina Rui, che è una professoressa di chimica e molto amica di Silvano Fuso dai tempi della giovinezza, cioè da pochi giorni fa, dai tempi della giovinezza, e quindi si conoscono dalla laurea, quindi penso che la presenti meglio di me. Una parola sola, dunque state attenti se dovete uscire prima, come ho già detto, di non passare davanti alla telecamera, se no ci rimanete per sempre. E per favore, per favore, cercate di zittire i cellulari, perché anche i cellulari rimangano poi nella registrazione, è un peccato. Ok, grazie mille. Ci passiamo questo. Eccomi. Allora, buongiorno a tutti. Beh, allora, io conosco Silvano in effetti da quando facevamo la tesi. Io sono un po' più vecchia di lui, ma il laboratorio è lo stesso, perché Silvano si è laureato nell'Università di Genova in chimica per la precisione in spettroscopia molecolare, e quindi è lì che ci siamo conosciuti, e inizialmente ha lavorato in chimica, in spettroscopia molecolare, ha fatti autore anche di pubblicazioni scientifiche nel campo, per un certo periodo ha lavorato lì. Poi, diciamo, è passato alla scuola, alla scuola superiore, e ha cominciato tutta una serie di altre attività che sono quelle che lo stanno portando in giro alle conferenze e agli articoli, ai libri di cui oggi è autore. Per la scuola, peraltro, vorrei ricordare che ha scritto anche due libri di testo proprio sulla chimica fisica. Dopodiché, però, diciamo, passando alla scuola, ha anche maturato il grande interesse per la divulgazione scientifica, e quindi da lì sono nati i filoni che l'hanno portato a far parte di vari comitati, per esempio anche nel Festival della Scienza, ma soprattutto io vorrei segnalarne uno che mi sembra molto importante, il CICAP. Il CICAP è il comitato italiano che si occupa del controllo sulle affermazioni delle pseudoscienze. È veramente fondamentale perché le pseudoscienze sono un problema, un problema nel senso che le loro, diciamo, le loro soluzioni sono spesso affascinanti, molto più affascinanti della scienza, ma purtroppo non sono verificate, o a volte è addirittura verificato il contrario. Quindi è un'attività molto significativa. Io non mi dilungo molto, vi dico ancora solo pochissime cose, perché vorrei segnalare che, siccome la sua produzione è molto ricca e quindi ci porterebbe via molto tempo, mentre penso che sia più utile sentire la conferenza, c'è un sito, il suo sito, che è www.silvanofuso.it, in cui potete trovare tutte le informazioni sulle sue attività, quindi diciamo sulle conferenze che lui ha tenuto, sugli articoli, articoli scientifici, articoli di divulgazione, su tutti i suoi libri sono moltissimi. Io ne cito solo, prima di terminare, tre, perché hanno avuto il premio nazionale per la divulgazione scientifica tra il 2014 e il 2019 e sono chimica quotidiana, naturale uguale buono e l'alfabeto della materia. Sono solo alcuni, ce ne sono molti di più e vi invito infatti ad andarli a vedere, e ultima curiosità, poi gli lascio la parola, a suo nome è intitolato un piccolo asteroide che orbita tra Marte e Giove, quindi diciamo, di cose su di lui ce ne sono tante da scoprire, vi invito a farlo andando a guardare il sito e lascio la parola perché mi sembra più significativo non perdere tempo. Bene, grazie Marina per questa generosa presentazione. Allora, intanto, buon pomeriggio a tutti, ben trovati, per me è un piacere essere qui, l'ambiente degli amici dell'acquario è un ambiente che ormai ritengo familiare, perché appunto c'è un rapporto di amicizia che va avanti da tanti anni. Allora, come appunto ha introdotto Marina, questo pomeriggio parliamo di premi Nobel, magari possiamo far partire il PowerPoint, vediamo se anche il telecomando funziona. Allora, vediamo se ecco così acceso. Allora, dicevo, parliamo di premi Nobel e in particolare, come dice il titolo, appunto, di storie di premi Nobel e di solenni cantonate, perché sicuramente il premio Nobel è forse il più prestigioso premio culturale in assoluto, ce ne sono altri, ma sicuramente perlomeno è il più noto, il più conosciuto anche dal grande pubblico, per cui chi viene insegnito di questa prestigiosa onorificenza, automaticamente acquista così un prestigio, un'autorevolezza a livello internazionale, acquisisce subito una grande popolarità e una grande visibilità. Però, quello che vorrei appunto far vedere nella chiacchierata di questo pomeriggio è che il fatto di vincere un premio Nobel non garantisce automaticamente di essere immuni da errori, non è un vaccino contro le castronerie, non è che uno che vinca il Nobel sia immunizzato dagli errori. Se noi guardiamo un po' la storia del premio Nobel, che nasce nei primi anni del Novecento fino ai nostri giorni, ci possiamo rendere conto che ci sono stati fisici, chimici, medici, in qualche caso anche qualche letterato che si è avventurato imprudentemente, come vedremo, in ambiti scientifici, che hanno preso veramente delle solenni cantonate, hanno sostenuto delle castronerie a tutti gli effetti. e questo pomeriggio appunto ne volevo presentare qualcuno, però prima di entrare nel merito volevo ricostruire un attimo proprio la storia del premio Nobel, perché non tutti forse sanno una cosa piuttosto curiosa, che l'istituzione stessa del premio Nobel nasce da un errore, stiamo parlando di cantonate, stiamo parlando di castronerie, lo stesso premio Nobel nasce proprio da un errore, come adesso vedremo. Dunque, chi era Alfred Nobel era un chimico industriale svedese, nella sua vita si occupò di tanti problemi, ma soprattutto si concentrò sugli esplosivi e in particolare lui trovò il modo di utilizzare una sostanza che non aveva isolato lui, ma era stata isolata da un chimico italiano torinese che si chiamava Ascannio Sobrero, questa sostanza si chiama nitroglicerina, che è uno dei più potenti esplosivi che si conoscano, però ha un disetto, intanto è un liquido e il disetto è che praticamente esplode quando vuole lei, non quando vogliamo noi, nel senso che è un liquido terribilmente instabile, per cui basta un piccolo scossone per far saltare per aria tutto quanto, per cui l'utilizzo della nitroglicerina pura, come esplosivo, presentava degli enormi problemi. Non so se qualcuno di voi ha visto il film di Sergio Leone Giù la testa, cioè il protagonista che gira appunto con queste provette di nitroglicerina con tutte le conseguenze del caso. Dicevo, Alfred Nobel trovò il modo di sfruttare il potenziale esplosivo della nitroglicerina evitando però la sua instabilità in una maniera apparentemente banale, cioè semplicemente ebbe l'idea di mescolare questo liquido con delle polveri inerti, tipo la cosiddetta farina fossile che è un prodotto appunto originato da microconchiglie diciamo che si accumulano nei mari e ovviamente brevettò questa sua invenzione e in questo modo nacque quella che viene comunemente chiamata dinamite. La dinamite trovò immediatamente applicazioni in tantissimi ambiti, non so, pensiamo alle miniere e ovviamente però trovò applicazioni anche in campo bellico, no? Questo purtroppo è una costante della storia umana, no? Ogni invenzione prima o poi viene utilizzata anche per scopi bellici. Dicevo che Nobel guadagnò una fortuna in seguito a questo suo brevetto, fece nascere stabilimenti per la produzione della dinamite in diverse località, anche in Italia vicino a Torino nacque proprio uno stabilimento per la produzione della dinamite. A un certo punto però nel marzo del 1888 un fratello di Alfred che si chiamava Ludwig e che si occupava anche lui di esplosivi saltò per aria nel classico esperimento sbagliato come vengono di solito raffigurati i chimici nell'immaginario comune per cui saltò per aria mentre armeggiava nel suo laboratorio e un giornalista però francese equivocò cioè nel senso che lui si convince che fosse stato Alfred a saltare per aria non il fratello Ludwig e scrisse un articolo che venne pubblicato a Parigi in cui usò parole pesantissime nei confronti di Alfred che ripeto lui credeva ironiamente fosse morto lo definì addirittura mercante di morte l'articolo iniziava proprio così il mercante di morte è morto il dottor Alfred Nobel che fece fortuna trovando il modo di uccidere più persone possibili più rapidamente di quanto non si facesse prima è morto ieri quindi l'equivoco nacque da qui Alfred lesse questo articolo e ne rimase terribilmente turbato perché lui non immaginava di avere un'immagine pubblica così negativa lui era animato da ottime intenzioni era uno spirito abbastanza filantropico per cui lui sperava che la sua invenzione fosse utilizzata a beneficio dell'umanità per cui non si era reso conto di avere acquisito questa immagine pubblica di mercante di morte e per cercare in qualche modo di riabilitarsi decise di istituire la famosa fondazione Nobel utilizzando l'immensa fortuna che lui riuscì raccogliere con lo scopo di premiare ogni anno tutti coloro che con il loro ingegno avessero effettivamente portato beneficio all'umanità in questo modo nacque il premio Nobel che esiste ancora oggi che viene assegnato come sapete per diverse discipline scientifiche la fisica la chimica la medicina viene assegnato per la pace per la letteratura e solo successivamente in anni molto più recenti a noi quindi siamo nel 1968 la banca di Svezia ebbe l'idea di istituire un premio simile per l'economia infatti il premio Nobel per l'economia in realtà non è un vero premio Nobel perché non venne istituito per decisione di Alfred Nobel ma dalla banca di Svezia appunto in epoca recente nel 1968 questa in sintesi un po' la storia del premio Nobel come vedete appunto nacque lo stesso premio da un errore l'errore commesso da quel giornalista che equivocò sulla morte del fratello Ludwig torniamo invece al tema proprio della chiacchierata di oggi cioè gli strafalcioni le cantonate prese da vincitori di premi Nobel allora qualcuno qualche anno fa parlò addirittura di Nobel disease cioè la malattia dei Nobel perché siccome come vedremo con una certa frequenza capita che vincitori di premi Nobel prendano strafalcioni solenni qualcuno addirittura introdusse l'idea che la vincita del premio Nobel creasse una sorta di patologia che venne proprio definita Nobel disease quindi malattia da Nobel chi introdusse questa espressione è questo signore qua che è un oncologo professore di chirurgia negli Stati Uniti ora io non so francamente fino a che punto abbia senso parlare di malattia da Nobel può darsi che la vincita di un premio così prestigioso a livello psicologico abbia un impatto tale sugli interessati che a un certo punto sono preda di una sorta di delirio di onniscienza non di onnipotenza ma di onniscienza nel senso che si autoconvincono magari di poter parlare di tutto anche di cose di cui magari non sono strettamente competenti comunque sia al di là del fatto che esista o meno questa malattia da Nobel è un dato di fatto che non pochi vincitori di premi Nobel a un certo punto della loro carriera abbiano per così dire sbarrellato nel senso che si sono innamorati di idee bizzarre che non hanno poi mai trovato alcun riscontro nel resto della comunità scientifica per cui abbiamo a che fare con cervelli sicuramente al di sopra della media menti eccelse che però hanno manifestato da un certo punto tutte le loro caratteristiche umane perché i premi Nobel non sono marziani sono esseri umani che si portano inevitabilmente con sé tutte le debolezze tipicamente umane quindi le proprie manie le proprie fissazioni i propri pregiudizi le proprie idiosincrasie che molto spesso hanno poi ricadute su quello che loro sostengono anche in campo scientifico come dicevo non c'è nessuna categoria esclusa ci sono fisici ci sono medici chimici biologi e chi più ne ha più ne metta e come accennavo ci sono stati anche casi di premi Nobel per la letteratura che si sono avventurati con una certa imprudenza in ambiti scientifici cadendo vittime di solenni cantonate piccola precisazione io mi occupo di divulgazione scientifica per cui inevitabilmente mi occupo e mi sono occupato di questioni scientifiche ho totalmente escluso premi Nobel per la letteratura e premi Nobel per la pace perché non riguardano la scienza e poi si va in ambiti in cui è veramente difficile capire chi ha ragione chi ha torto dove sia l'errore dove sia la verità la letteratura la pace sono temi anche piuttosto opinabili per cui di quello io non mi sono assolutamente occupato mi sono occupato solamente di risvolti di carattere scientifico dicevo che tutte le categorie praticamente sono coinvolte ovviamente stasera non abbiamo la possibilità di esaminare tutti questi casi per cui io ho fatto una scelta per ogni categoria ho scelto un personaggio quindi un premio Nobel per la medicina uno per la fisica uno per la chimica e uno per la letteratura e vi volevo raccontare appunto qualche cosa di questi personaggi grandi da un certo punto di vista e ahimè invece terribilmente vulnerabili proprio anche dal punto di vista intellettuale dall'altro punto di vista cominciamo quindi con un premio Nobel per la medicina si tratta di Charles Richet Charles Richet è stato un grandissimo medico e fisiologo francese nato nel 1850 morto nel 1935 lui è universalmente riconosciuto come il fondatore di quella che si chiama sieroterapia e vinse il premio Nobel per la medicina nel 1913 per la scoperta della cosiddetta anafilassi quando uno ha uno shock anafilattico come si dice il primo che identificò proprio questo processo patologico fu Charles Richet quindi grandissimo scienziato grandissimo medico che ha dato un contributo importantissimo alla medicina quindi il suo premio Nobel è assolutamente meritato al 100% era comunque un personaggio molto eclettico perché al di là della medicina lui aveva moltissimi interessi si interessò di poesia di letteratura di aviazione era un fervente pacifista quindi un intellettuale diremmo proprio a tutto tondo a 360 gradi e siamo fine 800 inizi 900 per cui non poteva non interessarsi di un argomento che all'epoca era estremamente di moda che era il cosiddetto spiritismo altrimenti chiamati anche fenomeni psichici cioè tutti quei fenomeni quei presunti fenomeni oggi li chiameremmo paranormali che andrebbero oltre quelle che sono le conoscenze che la scienza ci consente di avere lui si appassionò moltissimo allo studio di questi presunti fenomeni che ripeto all'epoca erano di gran moda e si concentrò soprattutto sullo spiritismo ora nello spiritismo sapete che cosa si fa ci sono dei personaggi che si autodefiniscono medium tra i vivi e il regno dell'aldilà e durante queste sedute spiritiche fanno credere ai partecipanti appunto di entrare in comunicazione con i defunti a volte manifestano fenomeni che impressionano molto ovviamente chi partecipa alla seduta Richet dicevo a partire dal 1880 cominciò a occuparsi attivamente di questi presunti fenomeni spiritici partecipò a diverse sedute spiritiche con quelli che erano i sedicenti medium più in auge all'epoca e in particolare partecipò a parecchie sedute in cui la protagonista diciamo la medium era Eusappia Palladino forse qualcuno di voi ha sentito nominare questo nome perché sicuramente è stata una delle più famose medium dell'epoca Eusappia Palladino era una popolana diciamo di origine pugliese era semi analfabeta credo che non sapesse neanche scrivere ciò nonostante diventò un personaggio famosissimo a livello europeo veniva contesa perché tutti volevano partecipare alle sedute spiritiche da lei condotte e era ahimè una solenne imbrogliona nel senso che venne smascherata ripetutamente mentre utilizzava trucchi dozzinali proprio per prendere per i fondelli scusatemi l'espressione prendere per i fondelli partecipanti a queste sedute usava trucchi banali per far muovere il classico tavolino spiritico usava i piedi oppure quando si faceva la catena medianica lei abilmente sottraeva una mano e con la mano libera faceva verificare tutto quello che lei voleva impressionando moltissimi partecipanti poi aveva un caratteraccio quando qualcuno osava contraddirla lei dava in escandescenza praticamente l'unica regista delle sedute era lei perché chiunque osasse avanzare qualche critica veniva subito mazzolato di brutto Charles Richet partecipò a diverse di queste sedute e si convinse che i poteri decantati da Eusappi a Paladino fossero autentici per cui lui involontariamente contribuì anche a fare le pubblicità a consolidare ancora di più quello che lei ovviamente cercava di diffondere sul suo conto dicevo che appunto fu anche un inguaribile divulgatore di questi fenomeni spiritici nel 1891 fondò addirittura una rivista gli annali delle scienze psichiche che divenne ben presto un riferimento proprio per tutti coloro che si occupavano di spiritismo cercò anche proprio di organizzare ricerche fra virgolette scientifiche su questi presunti fenomeni e divenne addirittura presidente dell'ASPR la società per la ricerca psichica di Londra che all'epoca era appunto la principale istituzione accademica che si occupava di questi presunti fenomeni è evidente che nella mente di Richer il desiderio di credere sorpassò di gran lunga la sua razionalità perché lui sicuramente era una persona razionale uno scienziato competente però come spesso accade l'emotività delle persone prende il sopravvento per cui anche di fronte all'evidenza contraria cioè lo smascheramento dei trucchi usati da Eusappi a Paladino lui continuò assolutamente a essere convinto che certi fenomeni fossero autentici che certe manifestazioni spiritiche della Paladino e di altri medium fossero genuini e questo dimostra appunto che la razionalità molto spesso non basta e si può cadere vittime di imbroglioni anche avendo vinto un premio Nobel prestigioso come quello di Charles Richet questo è un po' il primo personaggio di cui vi volevo parlare il secondo è molto più recente è ancora vivo e vegeto si tratta di Brian Josephson premio Nobel per la fisica dunque Josephson fu un vero e proprio enfant prodige della fisica dello stato solido pensate che vinse il premio Nobel per la fisica nel 73 a soli 33 anni quindi è altamente improbabile che qualcuno della sua età venga insignito del premio Nobel di solito i premi Nobel vengono assegnati a persone già abbastanza in età avanzate lui a soli 33 anni venne insignito del premio Nobel per la fisica quindi veramente enfant prodige insieme a lui vennero premiati altri due ricercatori il giapponese Zaki e l'americano Javert e la motivazione perché sapete che l'accademia quando assegna il Nobel rende pubbliche le motivazioni la motivazione fu la seguente per le sue previsioni teoriche delle proprietà di un super di un scusate c'è un errore super conduttore non super corrente attraverso una barriera tunnel in particolare quei fenomeni che sono generalmente noti proprio come effetto Josephson quindi questi fenomeni prendono il nome proprio da lui hanno poi anche delle applicazioni pratiche in quelle che si chiamano giunzioni Josephson quindi chi si occupa un po' di elettronica magari ha già sentito parlare di queste cose quindi grande fisico dello stato solido anche lui mente inquieta nel senso che oltre alla fisica amava e ama tuttora occuparsi di tante altre cose anche molto lontane dalla fisica per esempio fra i suoi interessi vi sono i rapporti mente-corpo lui cominciò già molti anni fa a occuparsi di queste tematiche quindi tematiche che in qualche modo sono legate a quella che viene chiamata filosofia della mente solo che se ne occupò appunto diremmo in maniera pseudo-scientifica cioè non dando credito a neuroscienziati che svolgono serie ricerche in questo ambito ma dando credito a personaggi molto discutibili per esempio lui iniziò a essere un fautore un sostenitore di questo signore che forse qualcuno si ricorda questo signore era un guru indiano che si chiamava Maharishi Maesh Yogi morto nel 2008 non so appunto se qualcuno si ricorda il nome ma sicuramente se vi ricordo un particolare a molti verrà in mente questo signore qua che aveva messo su una comunità era cimolato veramente un sacco di quattrini amava spostarsi con una processione di Rolls Royce forse questo dettaglio a qualcuno fa venire in mente qualche cosa proprio perché lui non solo era riuscito ad accumulare veramente una fortuna ma gli piaceva molto ostentare questa ricchezza che era riuscito a raccogliere grazie mi permettete di usare la parola grazie ai creduloni che gli andavano dietro Josephson fu uno dei principali sostenitori di questo signore oltre a questi suoi interessi diciamo spirituali diciamo fra virgolette Josephson fu anche un avvocato delle cause perse diciamo sostenne teorie pseudoscientifiche ampiamente dimostrate tali dalla comunità scientifica in particolare ve ne cito due la cosiddetta fusione nucleare fredda e la questione della cosiddetta memoria dell'acqua vi ricorderete siamo alla fine degli anni 80 inizi anni 90 due ricercatori di nome Pons e Fleischmann avevano tirato fuori la storia della fusione nucleare fredda sapete che la fusione nucleare è una delle grandi sfide dell'umanità ci sono ricercatori in tutto il mondo che cercano di realizzare in maniera controllata la fusione nucleare che rappresenterebbe la soluzione di tutti i nostri problemi energetici questi due ricercatori che erano due elettrochimici Pons e Fleischmann tirarono fuori questa storia della fusione fredda cioè in pratica con attrezzature quasi casalinghe una cella elettrolitica due elettroli loro dicevano di essere riusciti ad effettuare la fusione nucleare per un attimo vi fu un certo entusiasmo mi ricordo anche la fisica a Genova ci fu chi se ne occupò però questa cosa si sgonfiò come la neve si squagliò come la neve al sole nel giro di pochi mesi perché ci si rese conto che i risultati clamorosi di questi due ricercatori non erano assolutamente riproducibili per cui la fusione fredda rimane un'illusione che ha fatto il suo tempo Josephson ancora oggi invece sostiene che la fusione fredda sia realizzabile è un difensore delle ricerche originarie di Pons e Fleischmann e quant'altro stesso discorso per quanto riguarda la memoria dell'acqua siamo più o meno nello stesso periodo nel 1988 se ricordo bene un biologo francese di nome Jacques Benveniste pubblicò un articolo su Nature una delle più prestigiose riviste scientifiche oltre a lui c'erano altri 12 autori che firmavano l'articolo per farla breve in quest'articolo si sosteneva che delle soluzioni estremamente diluite che quindi facendo i calcoli alla mano si vedeva che non contenevano più alcuna traccia del soluto cioè c'era soltanto il solvente era acqua fresca secondo Benveniste mantenevano invece un ricordo per così dire di ciò che era stato disciolto in queste soluzioni ultra diluite ovviamente chi andò a nozze con questa presunta scoperta furono gli omeopati perché nell'omeopatia sapete che si raggiungono proprio queste diluizioni estreme per cui quella che viene chiamata tintura madre utilizzata inizialmente non è più presente neanche a livello proprio molecolare in questi preparati che vengono venduti a caro prezzo in farmacia uno sborsa un sacco di soldi e si porta a casa dell'acqua fresca Josephson nonostante la comunità scientifica avesse poi demolito completamente quest'articolo di Benveniste ancora oggi ogni tanto tira fuori la validità della memoria dell'acqua arrampicandosi sugli specchi perché ripeto non c'è assolutamente alcuna evidenza anzi ci sono montagne di evidenze contrarie che smentiscono questa bizzarra ipotesi una cosa curiosa Josephson è un accanito contributore come dicono gli anglo-sassoni di Wikipedia sapete che Wikipedia è un'enciclopedia aperta a tutti chiunque può dare il suo contributo Josephson fin dalla nascita di Wikipedia fu uno dei principali autori diciamo così e uno si aspetterebbe che un premio Nobel per la fisica contribuisse parlando di fisica in particolare di fisica dello stato solito ma neanche per idea lui cominciò a collaborare con Wikipedia sulle cose di suo interesse che abbiamo citato prima quindi teorie diciamo spiritualiste sull'anima fusione fredda memoria dell'acqua e quant'altro e oltretutto siccome Wikipedia è un luogo piuttosto affollato ci fu subito qualcuno che disse guardi lei sarà anche un premio Nobel ma quello che sostiene non ha nessuna evidenza lui ovviamente reagì in maniera molto esagitata proprio facendo leva sul principio di autorità in poche parole disse come vi permettete di contraddire me che ho vinto il premio Nobel tant'è vero che gli amministratori di Wikipedia lo cacciarono fuori addirittura lo sospesero per un certo periodo soltanto quando diciamo venne ammiti i consigli fu riammesso e continua credo tuttora a collaborare con Wikipedia su queste tematiche sostenendo cose ripeto totalmente smentite dal resto della comunità scientifica quindi enfant prodige della fisica dello stato solido scienziato sicuramente geniale però anche lui cascò miseramente su queste cose perché? perché anche in questo caso evidentemente la sua emotività ha la prevalenza sulla sua razionalità cioè queste cose gli piacciono talmente tanto che negando le evidenze contrarie lui continua a sostenere che siano vere e questo è un meccanismo che capita scatta molto spesso anche nelle menti più eccelse non potevamo non parlare di premi Nobel per la chimica no? insomma siamo chimici e marina quindi era doveroso fare anche un po' di autocritica nei confronti dei chimici e ce ne sono stati diversi chimici io ho scelto questo personaggio perché è veramente un personaggio unico si tratta di Kerry Mullis che è è stato è morto qualche anno fa nel 2019 è stato un valente biochimico lui diede degli importantissimi contributi alla biologia molecolare potremmo dire tant'è vero che nel 1993 venne insignito del premio Nobel per la chimica con questa motivazione per la sua invenzione del metodo della reazione a catena della polimerasi la cosiddetta PCR la PCR ormai è una tecnica che trova applicazioni nei campi più disparati da giusto la biologia molecolare fino alle indagini forensi la famosa prova del DNA in qualche modo è possibile grazie a questa tecnica che consente anche partendo da tracce minime proprio di DNA di moltiplicare le catene di quest'acido nucleico e quindi poi consentire sequenzialmente eccetera eccetera quindi grandissima scoperta e quindi altro Nobel assolutamente meritatissimo però dicevo che Cary Mullis è stato veramente un personaggio unico nel suo genere intanto lui aveva diverse passioni che non ebbe mai problemi a confessare pubblicamente prima passione il surf qui lo vediamo raffigurato con la sua inseparabile tavola da surf seconda grande passione le donne lui era un inguaribile don Giovanni non ha mai fatto un mistero di questa sua passione terza passione le droghe uno diceva come un premio Nobel che si droga ebbene sì lui lo confessa in un libro che è estremamente divertente io ve lo consiglio come lettura ricreativa il libro è questo ballando nudi nel campo della mente in cui praticamente lui racconta la sua biografia non facendo mancare al lettore questi particolari anche piuttosto privati piuttosto intimi lui racconta che fu sua madre ad avvicinarlo al mondo delle droghe perché lui racconta che fin quando era bambino la madre gli somministrava barbiturici per dormire anfetamina quando aveva il raffreddore andava giù pesante il cosiddetto paregorico che è una soluzione alcolica di oppio al 10% per tosse di area quindi lui fin da bambino assumeva droghe perché era la madre stessa che gliele somministrava a un certo punto andò all'università si trovò negli anni 60 a Berkeley era inevitabile che finisse col provare l'LSD che era la moda la droga di moda dell'epoca il famoso acido lisergico al di là di questo uno dice si droga sono affari suoi quello che invece preoccupa un po' di più sono le posizioni pseudoscientifiche che lui pubblicamente ha sostenuto per tutta la sua vita ad esempio lui fu molto possibilista nei confronti della validità dell'astrologia lui attaccava duramente coloro che criticavano l'astrologia li accusava di essere la nuova inquisizione di voler soffocare le nuove idee a parte che di nuovo l'astrologia ha ben poco perché se c'è una disciplina antichissima è proprio l'astrologia ed è rimasto uguale a se stessa non ha subito alcuna evoluzione eccetera comunque fin qui tutto sommato l'astrologia è abbastanza innocua se uno ci vuole credere è affar suo il discorso cambia quando Mallis invece sostenne pubblicamente altre cose che avevano delle ripercussioni in campo medico per esempio lui negò fino alla fine dei suoi giorni che ci fosse una correlazione fra l'AIDS cioè la malattia e il virus HIV ormai la comunità scientifica da anni sa che l'AIDS è una patologia creata da questo virus lui negò assolutamente che ci fossero delle dimostrazioni di un rapporto di causa ed effetto fra l'HIV e l'AIDS e questo voi capite bene è una posizione estremamente pericolosa perché se qualcuno dà retta a Mallis che ha vinto il Nobel per la chimica è chiaro che abbassa il livello di attenzione quindi chiaramente può assumere comportamenti sessuali più disinvolti e il rischio di contrarre questa malattia ovviamente aumenta per cui finché si tratta di astrologia dico sono affari suoi quando si fanno affermazioni di questo tipo invece bisognerebbe anche pensare alle conseguenze che certe affermazioni pronunciate ripeto da un premio Nobel hanno sull'opinione pubblica poi per non farsi mancare niente lo confessa lui stesso nel libro che vi ho citato lui racconta che una sera tornando a casa incrociò quello che lui descrive come un procione luminoso quindi questo strano essere che aveva le sembianze di un procione e emetteva luce che addirittura quando lo incrociò gli disse buonasera dottor Mallis e lui educatamente rispose buonasera ora visto il curriculum di droghe di cui abbiamo parlato prima non è difficile immaginare quale fosse la causa di questo avvistamento ora lui bisogna dire non dice non fa ipotesi sull'origine di questo procione racconta semplicemente l'episodio in cui appunto vi fu questo scambio di saluti educato fra il premio Nobel Mallis e il procione luminescente questo per dire che personaggio era Carey Mallis personaggio divertentissimo sono sicuro che chi lo ha conosciuto di persona si sarà divertito un mondo perché è un personaggio veramente bizzarro ecletico e veramente molto particolare vediamo se passa ok allora vi dicevano che in questo campionario di cantonate da Nobel non sono mancati alcuni letterati quindi premi Nobel per la letteratura che si sono imprudentemente avventurati in ambiti scientifici dove evidentemente non avevano le competenze per intervenire però ciò nonostante come vedremo adesso sono intervenuti un caso tipico è quello di Henri Bergson Henri Bergson è stato un grande filosofo nato nel 1859 morto nel 1941 che vinse il premio Nobel Nobel per la letteratura nel 1927 e la motivazione ancora una volta è stata il riconoscimento delle sue ricche e vitalizzanti idee e della brillante abilità con la quale sono state presentate sicuramente era una buona penna Bergson scriveva bene le sue idee filosofiche le riusciva a esprimere bene a catturare l'attenzione dei lettori per cui vinse il premio Nobel per la letteratura quello per la filosofia non c'è per cui gli diedero il premio Nobel per la letteratura se si esamina un po' più a fondo diciamo la filosofia il pensiero di Bergson ci si rende subito conto di una cosa lui dava grandissimo peso alla percezione interiore quindi la percezione soggettiva la percezione individuale contraponendosi invece a quello che è un po' l'obiettivo di tutte le discipline scientifiche cioè raggiungere una conoscenza oggettiva che vada al di là dell'opinione individuale quindi già da questo capiamo che fra lui e la scienza non poteva forse correre tanto buon sangue proprio a causa di questa sua impostazione in particolare lui sviluppò gran parte della sua filosofia concentrandosi sul concetto di tempo e quindi era inevitabile che ci fosse in qualche modo un confronto con quelle che sono le concezioni che la scienza ha prodotto sul concetto di tempo siamo agli inizi del novecento e quindi era inevitabile che le idee scusate le idee di Bergson si confrontassero con quelle di Albert Einstein scusate che io ho scliccato per errore Albert Einstein sapete che è stato il fisico del novecento che più di ogni altro ha fatto le pulci se vogliamo al concetto di tempo con la teoria della relatività lui ha proprio rivoluzionato completamente quello che era il concetto di tempo della fisica classica e il 6 aprile del 1922 venne organizzata dalla società francese di filosofia un incontro proprio oggi diremmo una tavola rotonda un faccia a faccia che vide protagonisti proprio Bergson e Einstein entrambi erano già personaggi famosi Einstein aveva vinto il Nobel per la fisica l'anno precedente nel 21 e Bergson era già uno stimato intellettuale per queste sue opere un po' a cavallo fra filosofia e letteratura di cui abbiamo parlato in particolare un'opera di Bergson era particolarmente in auge all'epoca che è l'evoluzione creatrice che lui aveva pubblicato proprio pochi anni prima nel dibattito che ci fu fra Bergson e Einstein Bergson praticamente illustrò quello che era il contenuto di un suo libro che sarebbe stato pubblicato poco dopo l'incontro del 6 aprile 22 che libro che si chiamava Durata e simultaneità proprio a proposito della teoria di Einstein cioè in questo libro che venne pubblicato poco dopo l'incontro lui si permetteva proprio di criticare duramente le concezioni del tempo elaborate da Einstein nell'ambito della teoria della relatività e al di là dei contenuti filosofici che ovviamente non sono giudicabili con criteri scientifici si va in ambiti che sono extrascientifici però quello che emerse durante il dibattito e quello che può emergere ancora oggi leggendo il libro di Bergson sono proprio degli errori gravi di carattere concettuale che Bergson commise nell'interpretazione delle teorie di Einstein cioè lui dimostrò proprio di aver capito ben poco della relatività di Einstein il che può essere anche legittimo un filosofo letterato non è tenuto a essere esperto di relatività però lui ebbe l'ardire di criticare anche in maniera piuttosto pesante i contenuti di Einstein relativi appunto alla sua teoria esponendosi abbastanza al ridicolo perché emerse chiaramente che in questo dibattito Bergson dimostrava scarsa competenza mentre Einstein serafico ribatteva ovviamente alle obiezioni con grande serenità d'animo come era diciamo nel suo carattere invece Bergson ne uscì veramente male da questo dibattito ne uscì veramente con le ossa rotte ci furono ovviamente critici che esaminarono i dettagli del dibattito diversi fisici io qui ne ho scelto uno ma ce ne sono tanti altri per esempio questo Olivier Costa de Beauregard disse espressamente gli argomenti tecnici prodotti da Bergson nel libro Durate simultaneità sono assolutamente erronei e non hanno applicazione quindi non si tratta di filosofia si tratta proprio di errori gravi di errori grossolani di fisica quindi lui dimostrò proprio di non aver capito un granché giudizi analoghi vennero espressi anche da altri fisici e lo stesso Einstein scusate è saltato lo stesso Einstein in una lettera che scrisse a un suo amico qualche tempo dopo disse testualmente Bergson sul suo libro sulla teoria della relatività ha fatto alcuni gravi errori e disse molto serenamente Dio perdonalo Einstein si rese conto che era il classico dilettante allo sbaraglio diremmo oggi una persona che si è voluta avventurare in ambiti di cui non era assolutamente competente e quindi ne uscì veramente con le ossa rotte e quindi è successo anche questo appunto di letterati che ripeto non sono tenuti ad avere competenze scientifiche però hanno avuto l'imprudenza di addirittura rivolgere critiche pesanti a chi invece competente lo era perché insomma Einstein in fatto di relatività se ne intendeva sicuramente ci sarebbero tanti altri esempi adesso ve ne cito qualcuno così proprio un passant poi magari se volete approfondire ne possiamo parlare nella discussione c'è un altro personaggio ancora vivo oggi James Watson il quale divenne celeberrimo insieme a Crick e Wilkins per la determinazione della struttura doppia elica del famoso DNA scoperta che rivoluzionò completamente tutta la biologia l'articolo venne pubblicato nel 1953 già nell'assegnazione del premio Nobel ci sarebbero cose da ridire perché chi diede un grossissimo contributo a questa scoperta fu Rosalind Franklin che era una chimica una diffrattometrista che realizzò proprio la famosa immagine di diffrazione ai raggi X sulla quale poi lavorarono Crick Watson e Wilkins la Rosalind Franklin purtroppo morì di cancro prima che l'articolo venisse pubblicato il premio Nobel venne attribuito a questi tre che vi ho citato quindi Watson Crick e Wilkins i quali durante il discorso in occasione dell'assegnazione del Nobel si guardarono bene dal citare la povera Rosalind Franklin quindi già questa fu veramente un'azione vergognosa da parte di tutti e tre nel non dare il giusto riconoscimento a questa poveretta che nel frattempo era deceduta purtroppo Watson poi nel corso di tutta la sua vita ripete ancora vivo a 94 anni quasi ma ancora in auge non perse occasione per mettere in mostra proprio gli aspetti peggiori della sua personalità quindi leggete qualcuno ha sostenuto scusate sono tornati indietro inadvertitamente dicevo ha sostenuto che le persone di colore sono geneticamente meno intelligenti rispetto ai bianchi in un'altra occasione ha dichiarato che la presenza di donne riduce l'efficienza dei ricercatori quanto di peggio si possa immaginare lui è riuscito a dirlo ve ne aggiungo una considerazione lui ha avuto dei figli secondo lui i suoi figli sono molto meno intelligenti di lui e la colpa naturalmente è della moglie che non aveva geni adeguati al livello dei suoi quindi bravo biologo ma persona veramente pessima sotto tutti i punti di vista bisognerebbe chiederglielo sì effettivamente altro personaggio che al pari di Charles Richer che ho citato prima fu un sostenitore dei fenomeni spiritici fu Pierre Curie marito della forse più famosa Marie grande fisico infatti lui vinse insieme alla moglie il premio Nobel per la fisica poi Marie da sola lo vinse anche per la chimica successivamente però anche lui fu un fautore dello spiritismo anche lui partecipava alle sedute di Eusappia Paladino che ho citato prima e addirittura lui sosteneva che questi fenomeni avrebbero aperto le porte a una nuova fisica quindi anche lui si fece prendere per il naso da questi sedicenti medium che usavano trucchi a volte anche di basso livello per gabbare i partecipanti alle sedute poi qui si va diciamo sui risvolti più politici nel senso peggiore del termine Von Leonard e Johannes Stark Nobel per la fisica rispettivamente nel 1905 e nel 1919 per contributi che sono stati sicuramente scientificamente importanti però loro furono sostenitori svegatati del regime nazista e furono tra i fautori di quella sorta di crociata che organizzarono nell'ambito della comunità scientifica tedesca dell'epoca contro la cosiddetta fisica giudaica fisica giudaica che era praticamente la relatività di Einstein come sappiamo Einstein era di origine ebrea la stessa meccanica quantistica tra i cui padri c'era stato anche qualche fisico ebreo per cui loro in nome della difesa della cultura ariana della scienza ariana intrapresero questa veramente volgare battaglia contro la cosiddetta fisica giudaica consentitemi di citare Linus Pauling io voglio un gran bene a Linus Pauling primo perché un chimico ho studiato anche su qualche suo libro che rappresenta veramente qualche testo sacro per tutti i chimici quindi grandissimo chimico ha dato grandissimi contributi alla chimica tant'è vero che nel 54 venne insegnito del premio Nobel per la chimica poi altro motivo che me lo rende particolarmente simpatico fu un pacifista convinto lui intraprese molte battaglie contro il riarmo nucleare eccetera eccetera tant'è vero che nel 62 vinse un secondo premio Nobel questa volta per la pace quindi lui è una delle pochissime persone ad aver vinto addirittura due Nobel anche lui anche lui però ahimè a un certo punto prese qualche scivolone solenne a un certo punto della sua carriera lui cominciò a occuparsi di vitamina C e si convinse che l'assunzione di dosi massicce quindi al di sopra dei mille milligrammi giornalieri rappresentasse una sorta di panacea nei confronti di qualsiasi patologia dai semplici raffreddori fino ai tumori lui stesso assumeva quotidianamente dosi massicce di vitamina C non c'è nessuna evidenza dal punto di vista medico che l'assunzione di vitamina C in dosi così elevate possa proteggere da determinate patologie anzi può essere anche controproducente può dare problemi a livello renale eccetera lui si convinse invece di questa cosa pubblicò libri pubblicò articoli in cui decantava le straordinarie virtù della vitamina C c'è un particolare curioso una volta doveva tenere una conferenza ed era visibilmente raffreddato qualcuno gli fece notare ma professore lei non diceva che assumendo vitamina C si poteva sconfiggere il raffreddore lui non trova di meglio che rispondere che si trattava di allergia e non di raffreddore vero quindi anche lui si arrampicò un po' sugli specchi nonostante i suoi due premi Nobel e consentitemi di chiudere con questo altro personaggio che siamo arrivati ai nostri giorni Luc Montagnier è morto nel febbraio 2022 quindi quest'anno e vinse nel 1983 insieme a Françoise Filussi il Nobel per la medicina proprio per la scoperta dell'HIV cioè il virus di cui accennavamo prima responsabile della IDS ci fu una polemica anche in occasione del conferimento del Nobel perché non fu dato il Nobel a Robert Gallo che era un ricercatore americano che aveva dato importanti contributi anche lui nell'isolamento di questo virus comunque il Nobel per l'HIV Montagnier diciamo che se l'è meritato però nella sua carriera scientifica Montagnier più di una volta ha assunto posizioni discutibilissime questo ancora prima di vincere il Nobel per esempio qualcuno se lo ricorderà lui propose a Giovanni Paolo II quindi Papa Voittigua una cura per il Parkinson da cui il Papa era affetto a base di estratti di papaglia fermentati qualcuno di voi se lo ricorderà il resto della comunità scientifica sostiene che appunto non c'era assolutamente nessuna evidenza che questo estratto di papaglia fermentata avesse qualche effetto nei confronti del Parkinson quindi già questo suo esordio lasciava molto a desiderare poi in epoca più recente pubblicò degli articoli in cui rispolverava la storia della memoria dell'acqua a cui ho accennato prima tra l'altro pubblicando su riviste del tutto sconosciute riviste cinesi poi si è andato ad approfondire un po' il discorso si scoprì che il direttore della rivista era lui stesso quindi se la cantava e se la suonava nel senso che pubblicava su riviste che lui stesso dirigeva quindi già questo dal punto di vista della deontologia professionale lascia un po' a desiderare poi ultimamente quindi veniamo ai nostri giorni quindi inizio pandemia siamo nel 2020 evidenti lui uscì fuori sostenendo che il SARS-CoV-2 era di origine artificiale secondo lui era sfuggito da qualche laboratorio quindi questo virus era stato creato probabilmente con scopi benefici per lui diceva per mettere appunto un vaccino contro l'HIV il resto della comunità scientifica smentì immediatamente queste sue congetture perché mi ricordo su Nature proprio venne pubblicato un articolo in cui veniva sequenziato il DNA del virus da cui risultava evidente l'origine naturale di questo virus quindi anche qui le posizioni sostenute da Montagné furono assolutamente controcorrente poi assunse invece in epoca più recente posizioni dichiaratamente Novax e quello che è triste è che immediatamente questo venne sfruttato a livello politico per fare propaganda elettorale io ho un piccolo video di pochi minuti se abbiamo il tempo ve lo faccio vedere magari se riesce a far partire il video poi lo commentiamo dopo il video è un premio Nobel montagnere non lo facciamo vedere proprio perché vorremmo consigliere che si impiegasse nel merito perché ha tolto il professor montagnere quindi non è che siccome è un premio Nobel per forza c'ha ragione però continuiamo perché è diventato reale ed è giusto che tutti poi ci hanno risposte a questi contenuti vediamo e il senso continuo o l'unico e si prende la volta giusto e non vaccinali come ci saranno quelli che domani potranno salvare l'umanità perché i vaccini non proteggono assolutamente ed è quello che sta nel giorno fuori che non abbiamo la proteina che è stata utilizzata dai vaccini per proteggersi da questo virus in realtà ne so in qualche video però è un crimine assoluto tra le 50 vaccini alle panini allora professor si può bloccare allora penso che ogni commento sia quasi inutile se possiamo bloccare il video se non l'audio ok grazie dicevo a me questo video procura una certa tristezza perché allora questa manifestazione indecente venne organizzata al 15 gennaio l'8 febbraio poi Montagnè è morto quindi si vede un uomo anziano un uomo malato che probabilmente era anche un po' via con la testa però quello che è triste appunto che sia stato strumentalizzato utilizzato cosa succede non sto toccando niente ecco grazie dicevo quello che è abbastanza vergognoso è la strumentalizzazione che è stata fatta comunque ripeto anche in epoca giovanile quando sicuramente aveva meno acciacchi Montagnè è stato protagonista di diverse cantonate solenniche che anche in questo caso possono avere così avuto anche conseguenze negative ovviamente allora mi avvio alle conclusioni perché poi vorrei lasciare spazio per le domande allora cosa possiamo dire dunque questa breve carrellata in realtà ce ne sarebbero tanti altri di cui si può parlare mostra chiaramente quello che diceva all'inizio cioè il premio Nobel non è un vaccino contro errori corbellerie castronerie e quant'altro anche gli ingegni più eccelsi che hanno sicuramente dato contributi importanti alla scienza sono comunque sempre esseri umani e possono miseramente cadere su abbagli illusioni pregiudizi e quant'altro ciò nonostante però il sapere che la comunità scientifica produce è un sapere affidabile c'è Gilberto Corbellini che forse qualcuno di voi conosce che usa una frase che a me piace molto lui dice la scienza funziona nonostante gli scienziati è vero perché gli scienziati a volte possono dire fesserie però la comunità scientifica insieme cioè intesa come insieme appunto come comunità ha ormai messo a punto dei sistemi di controllo tali che ciò che la comunità produce ha un buon livello di affidabilità nonostante che i singoli scienziati i singoli premi Nobel possano anche sostenere castronerie ecco questo l'abbiamo già detto appunto questi meccanismi autocorrettivi garantiscono proprio l'affidabilità di ciò che la scienza fa in pratica anche questo l'ho già anticipato se ci pensiamo bene non c'è nessun'altra attività umana dove ci sia costantemente questa azione di filtraggio questa azione di controllo continuo cioè in pratica gli scienziati non fanno altro che farsi le pulci a vicenda cioè appena uno scienziato pubblica qualcosa di nuovo è chiaro che gli altri ricercatori dello stesso campo vanno a controllare la veridicità di quello che dice l'attendibilità di certi risultati la plausibilità di certe teorie quindi è proprio questo meccanismo di controllo reciproco che garantisce la bontà di ciò che la comunità produce nella scienza ovviamente non vale un accidente il principio di autorità non ci sono autorità indiscusse non ci sono testi sacri vi sono ovviamente scienziati più o meno autorevoli cioè chi ha dimostrato di essere bravo in un certo campo è ovvio che va preso in considerazione però non deve mai essere preso per oro colato quello che viene detto perché chiunque come abbiamo visto può cadere vittima di errori è costantemente presente oltretutto la consapevolezza dell'errore e questo determina la continua evoluzione della scienza la scienza non so di cento anni fa era diversa da quella di oggi e quella di oggi a sua volta è diversa da quella che ci sarà fra cento anni quindi la scienza per sua natura si evolve proprio perché riconosce costantemente gli errori e cerca di correggerli questo non succede invece nelle famose pseudoscienze cui accennavamo le pseudoscienze sono sempre uguali a loro stesse non hanno nessuna evoluzione permettetemi un po' di autopromozione io qualche anno fa ho pubblicato questo libro dove faccio appunto una collezione un'antologia di cantonate da Nobel dunque ne ho messi insieme circa due dozzine 12 Nobel per la medicina 7 per la fisica 3 per la chimica 2 per la letteratura non so quanto siano significativi i numeri non credo che si possano tirare fuori delle percentuali per dire che i medici sono più diciamo creduloni è semplicemente un dato che è emerso dalle ricerche che per divertimento mi sono messo a fare io vi ringrazio per l'attenzione se avete qualche curiosità qualche domanda spero che abbiamo un po' di tempo grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille